ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerò in bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco amoc sicilina più acido clavulanico sandozza barra s sandozza spa ultimo aggiornamento 23 luglio 2021 cos'emoc sicilina più acido clavulanico sandozza barra s confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere amoc sicilina più acido clavulanico sandozza barra s durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci esteri cos'emoc sicilina più acido clavulanico sandozza barra s amoc sicilina più acido clavulanico sandozza barra s è un farmaco a base del principio attivo amoc sicilina più acido clavulanico appartenente alla categoria degli antibatterici penicillinici e nello specifico associazioni di penicilline inclusi gli inibitori delle betalattamasi è commercializzato in italia dall'azienda sandozza spa amoc sicilina più acido clavulanico sandozza barra s può essere prescritto con ricetta rn rl medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione titolare sandozza barra s concessionario sandozza spa ricetta rn rl medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti classe h principio attivo amoc sicilina più acido clavulanico gruppo terapeutico antibatterici penicillinici forma farmaceutica preparazione iniettabile indicazioni amoc sicilina più acido clavulanico sandozza barra s è indicato nel trattamento delle seguenti infezioni negli adulti e nei bambini vedere paragrafi 4 2 4 4 e 5 1 infezioni gravi dell'orecchio del naso e della vola come mastoiditi ascessi per i consigliari epiglottiti e sinusiti quando accompagnate da gravi segnali e sintomi sistemici esacerbazioni acute di bronchiti croniche diagnosticate in modo adeguato polmonite acquisita in comunità cistite pielonefrite infezioni della pelle e dei tessuti molli in particolare cellulite morsi di animale ascessi dentali gravi con celluliti diffuse infezioni osse ed articolari in particolare osteomielite infezioni intra addominali infezioni dei genitali femminili profilassi delle infezioni associate a interventi chirurgici negli adulti che interessano il tratto gastrointestinale la cavità pelvica testa collo il tratto biliare si devono tenere in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici posologia le dosi sono espresse in termini di contenuto di amoxicillina barra acido clavulanico tranne quando le dosi sono definite nei termini di un singolo componente posologia la dose di amoxicillina più acido clavulanico sandozza barra s che viene scelta per il trattamento di ogni singola infezione deve tenere conto di patogeni attesi e loro probabile suscettibilità agli agenti antibatterici vedere paragrafo 44 gravità e sito dell'infezione età peso e funzionalità renale del paziente come descritto di seguito l'uso di formulazioni alternative diamo che sicilina e acido clavulanico sandozza barra s ad esempio quelle che forniscono dosi più alte diamo che sicilina e barra o di differenti rapporti diamo che sicilina acido clavulanico devono essere considerate se necessario vedere paragrafi 44 e 51 questa polvere per soluzione per infusione diamo che sicilina barra acido clavulanico fornisce una dose totale giornaliera di 3000 mg diamo che sicilina e 600 mg di acido clavulanico quando somministrata come raccomandato di seguito se si considera necessario aumentare la dose giornaliera diamo che sicilina si raccomanda di identificare un'altra formulazione alternativa diamo che sicilina e acido clavulanico sandozza barra s per evitare la somministrazione di dosi giornaliere elevate non necessarie di acido clavulanico la durata della terapia deve essere definita in base alla risposta del paziente alcune infezioni ad esempio le osteomieliti richiedono periodi di trattamento più lunghi il trattamento non deve essere proseguito oltre 14 giorni senza un controllo medico vedere paragrafo 44 relativamente alla terapia prolungata si devono tenere in considerazione le linee guida locali sulle appropriate frequenze di somministrazione diamo che sicilina barra acido clavulanico adulti e bambini di peso e 40 kg per il trattamento delle infezioni come indicato nel paragrafo 4 1 1000 mg barra 200 mg ogni 8 ore per la profilassi chirurgica per operazioni inferiori ad 1 ora la dose raccomandata è da 1000 mg barra 200 mg a 2000 mg barra 200 mg somministrata all'induzione dell'anestesia la dose di 2000 mg barra 200 mg può essere raggiunta usando una formulazione endovinosa alternativa diamo che sicilina e acido clavulanico sandozza barra s nel caso l'operazione superi la durata di 1 ora la dose raccomandata è da 1000 mg barra 200 mg a 2000 mg barra 200 mg somministrata all'induzione dell'anestesia fino a tre dosi di 1000 mg barra 200 mg in 24 ore segnali clinici evidenti di infezione durante l'operazione richiederanno un normale corso di terapia endovena orale post operatoria popolazione pediatrica bambini di peso 40 kg dosi raccomandate bambini di età pari o superiore a tre mesi 25 mg barra 5 mg per kg ogni 8 ore bambini di età inferiore a tre mesi o di peso inferiore a 4 kg 25 mg barra 5 mg per kg ogni 12 ore anziani non si considera necessario un aggiustamento del dosaggio danno renale gli aggiustamenti del dosaggio si basano sul livello massimo raccomandato diamo che sicilina non è richiesto un aggiustamento delle dose nei pazienti con le arance della creatinina crcl maggiore di 30 ml barra min adulti e bambini di peso e 40 kg crcl 10 30 ml barra min dose iniziale di 1000 mg barra 200 mg seguita da 500 mg barra 100 mg somministrati due volte al giorno crcl 10 ml barra min dose iniziale di 1000 mg barra 200 mg seguita da 500 mg barra 100 mg somministrati ogni 24 ore immodiali si dose iniziale di 1000 mg barra 200 mg seguita da 500 mg barra 100 mg somministrati ogni 24 ore con ulteriore dose da 500 mg barra 100 mg alla fine della dialisi in quanto le concentrazioni sieriche sia diamo che sicilina che di acido clavulanico sono diminuite bambini di peso 40 kg crcl 10 30 ml barra min 25 mg barra 5 mg per kg somministrati ogni 12 ore crcl 10 ml barra min 25 mg barra 5 mg per kg somministrati ogni 24 ore immodiali si 25 mg barra 5 mg per kg somministrati ogni 24 ore con ulteriore dose di 12,5 mg barra 2,5 mg per kg alla fine della dialisi in quanto le concentrazioni sieriche sia diamo che sicilina che di acido clavulanico sono diminuite danno epatico dosare con cautela e monitorare la funzionalità epatica ad intervalli regolari vedere paragrafi 4 3 e 4 4 modo di somministrazione ammoc sicilina e acido clavulanico sandozza barra s è per uso endovinoso ammoc sicilina e acido clavulanico sandozza barra s deve essere somministrato o con iniezione endovinosa lenta per un periodo da 3 a 4 minuti direttamente in vena oppure diaflebo infusione tra i 30 e 40 minuti ammoc sicilina e acido clavulanico sandozza barra s non è adatto per somministrazioni intramuscolari ai bambini di età inferiore ai tre mesi ammoc sicilina barra acido clavulanico deve essere somministrato solo per infusione il trattamento con ammoc sicilina barra acido clavulanico può essere iniziato con l'uso di una preparazione endovinosa e completato con un'appropriata preparazione orale come considerato adatto per il singolo paziente per le informazioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione vedere paragrafo 6 6 controindicazioni ipersensibilità al principio attivo a qualsiasi penicillina o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6 1 anamnesi positiva per gravi reazioni di ipersensibilità immediata ad esempio anafilassi ad altri agenti beta lattamici ad esempio cefalosporine carbapenemi o monobattamici anamnesi positiva per ittero barra insufficienza epatica dovuti ad amoc sicilina barra acido clavulanico vedere paragrafo 48 avvertenze speciali e precauzioni di impiego prima di iniziare la terapia con amoc sicilina barra acido clavulanico deve essere condotta un' indagine accurata riguardante precedenti reazioni di ipersensibilità alle penicilline alle cefalosporine o altri agenti beta lattamici vedere paragrafi 43 vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione anticoavulanti orali gli anticoavulanti orali e le penicilline sono stati ampiamente usati nella pratica clinica senza segnalazioni di interazioni tuttavia in letteratura vi sono casi di aumentato rapporto internazionale normalizzato vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it assumeremo che sicilina più acido clavulanico sandozza barra s durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere amoc sicilina più acido clavulanico sandozza barra s durante la gravidanza e l'allattamento gravidanza studi negli animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti relativi alla gravidanza allo sviluppo embrionale barra fetale al parto o allo sviluppo post natale vedere paragrafo 53 dati limitati sull'uso di vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari tuttavia possono presentarsi effetti indesiderati ad esempio reazioni allergiche capogiri convulsioni che possono alterare la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari vedere paragrafo 48 effetti indesiderati le reazioni avverse adr più comunemente riportate sono diarrea nausea e vomito le adr provenienti da studi clinici e da indagini post marketing con amoc sicilina barra acido clavulanico sono di seguito riportate secondo vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it sovradosaggio sintomi e segni di sovradosaggio possono essere evidenti sintomi gastrointestinali e alterazioni dell'equilibrio idroelettrolitico è stata osservata cristalluria damoc sicilina che in alcuni casi ha portato ad insufficienza renale vedere paragrafo 44 convulsioni possono verificarsi in pazienti con funzionalità renale compromessa o in pazienti che ricevono dosi elevate è stata segnalata la precipitazione della mocc sicilina nei cateteri vescicali prevalentemente dopo somministrazione per via endovinosa di ampie dosi un controllo regolare della pervietà deve essere mantenuto vedere paragrafo 44 trattamento dell'intossicazione i sintomi gastrointestinali possono essere trattati in modo sintomatico con attenzione all'equilibrio idroelettrolitico amoc sicilina barra acido clavulamico può essere rimosso dal circolo mediante emodialisi proprietà farmacodinamiche categoria farmacoterapeutica associazione di penicilline inclusi gli inibitori delle betalattamasi codice atc ilunga 01 cr02 meccanismo d'azione la mocc sicilina una penicillina simi sintetica antibiotico betalattamico inibisce uno più enzimi spesso riferiti come proteine proprietà farmacocinetiche assorbimento di seguito sono presentati i risultati di farmacocinetica di studi nei quali amoc sicilina barra acido clavulanico 500 mg barra 100 mg o 1000 mg barra 200 mg è stato somministrato a gruppi di volontari sani dati preclinici di sicurezza i dati preclinici non rivelano un particolare rischio per l'uomo sulla base degli studi di sicurezza farmacologica di genotossicità e di tossicità riproduttiva gli studi di tossicità a dosi ripetute elenco degli eccipienti non presenti fonte foglietto illustrativo aifa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'aifa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmama xd sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato grazie per aver guardato il video